Bella a tutti ragazzi oggi siamo di nuovo sul gioco di Kenshiro parte 2 Allora io ci ho giocato parecchio a sto gioco, ho quasi fatto un bel po' di storia Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Uyghur! 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 Una chiave molto utile! Uyghur! Ok! Queste cose sono un attimo! Uyghur! Poi... Mission! Uy! Ci sono salite le livelli! Uyghur! Ah! Il mio team! Ok! Sono molto potente! E' un pozzo! E' un pozzo! E' un pozzo! Ok! Abbiamo il masso di lì? Noi qui non bisogna uscire nulla, qui deve uscirci qualcosa Invece qui non cazzo, proprio un cazzo allo stato puro Ma quei ticchetta che cazzo fai? 25, me ne dà 400 Cazzo fai 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 fa schifo, R R è inutile, U R esiste, U non esiste mi capisco che c'è fa che una missione ah la ragazza è in pericolo, capisco e comunque quale altra missione? poster mi dai la casca quindi va bene Ray ma io ce l'ho a R oh sono nuovi, prima erano soldati diversi a ecce 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 Cosa cosa cosa? Cosa cosa cosa? Non voglio che l'ho incontro. Ah ho fatto male, stai orto. Udiva meggi! Cosa c'era? Ma quanta gente! Questo fa male o... Lui basta... Un boss? E chi è un boss? Attacca solo uno! Un boss! 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 Grazie.